L'ottava edizione di C-Future apre anche alle micro, piccole e medie imprese, settori rappresentati anche da Confartigianato La Spezia che ha tenuto un focus proprio sul rapporto di queste piccolissime aziende con settori importanti come quello del navale. Abbiamo incontrato una di queste aziende e abbiamo cercato di capire qualcosa di più proprio su questo studio. Presidente Figoli, C-Future è nata con una vetrina importante dedicata principalmente al settore della difesa, ma quest'anno c'è una novità, apre anche al mondo della piccola e media impresa e Confartigianato chiaramente è presente. Ci tenevamo assolutamente ad essere presenti a questa edizione, è la prima per noi, siamo al debutto, però siamo orgogliosi di poter portare due nostre aziende che occupano il nostro stand e naturalmente ci auguriamo che poi possano avere proficuo lavoro da questa esperienza. Diciamo che qui c'è tutto il mondo della difesa, ma non solo, c'è una digitalizzazione direi ai massimi livelli, quindi appunto le nostre imprese possono solo prendere spunto e migliorare già quello che già di ottimo stanno facendo per proseguire nella loro attività e noi siamo al loro fianco come Confartigianato per avviarli in questo lavoro che già stanno facendo. Come associazione di categoria Confartigianato chiaramente copre tutti quelli che sono i settori dell'artigianato, quali sono le aziende che sono qui presenti? Qui abbiamo due aziende, una che si occupa di ricambi meccanici nell'ambito navale non solo e quindi fa forniture e anche lavorazioni, ha anche un laboratorio di lavorazione e assistenza sempre in ambito di motori, motori meccanici e motori navali. L'altra invece si occupa, è in pieno del settore della digitalizzazione, si occupa di stampa digitale. Sono già una decina d'anni che lavora, è un'azienda che ha dieci dipendenti e produce e lavora naturalmente sia nel settore navale, cantieristi che non solo. Nell'ambito di C-Future Confartigianato propone un importante focus riguardo al mondo della piccola e media impresa meccanica. Come ha cambiato questo settore negli anni e soprattutto? C'è tanta richiesta? Allora, il settore è sicuramente un settore che è in continua trasformazione e ha avuto una fortissima evoluzione negli ultimi anni grazie proprio anche al maggiore e crescente intreccio con le tecnologie digitali. Quindi insieme con la crescita del digitale è cresciuto molto l'impresa della meccanica. L'industria italiana, caratterizzata da una maggior presenza di micro e piccole imprese, ha avuto un'ulteriore caratterizzazione, nel senso che rispetto ai competitor tedeschi e francesi ha recuperato completamente nel 2022 i livelli pretresi, mentre Germania e Francia presentano ancora un forte ritardo. È importante questo settore in particolare all'interno nel contesto di questo evento proprio perché le micro e piccole imprese intrecciano la loro attività con le medie e grandi imprese che operano nel settore della difesa e nel settore della marina militare. Quindi da questo punto di vista è importante ricordare come, pur essendoci una forte concentrazione di grandi imprese specializzate nella cantieristica navale e nella produzione di armi sul territorio di La Spezia, La Spezia è uno dei territori con una maggior quota di occupazione nelle micro e piccole imprese. Quindi questo assoluto equilibrio sul territorio di La Spezia si vede in maniera molto evidente. Naturalmente due aspetti molto critici. Uno è la forte crescita dei costi energetici nel corso del 2022 e adesso stanno scendendo. Il problema è che nel 2022 sono cresciuti di più in Italia rispetto ai competitor europei. Quindi abbiamo perso della competitività e questo è un motivo un po' di rallentamento, qualche segnale di rallentamento che abbiamo visto nel 2022. Altro elemento critico è la stretta monetaria in corso da parte della BCE per ridurre l'inflazione perché questo naturalmente rende più costosi gli investimenti. Ma proprio nei conti nazionali pubblicati la scorsa settimana dall'Istat abbiamo avuto una piacevolissima sorpresa. Nonostante la stretta monetaria, gli investimenti in macchinari, che è uno degli assi del settore della meccanica italiana, continuano a crescere. E questo in controtendenza rispetto agli altri maggiori paesi europei in cui invece maggior costo del credito sta rallentando gli investimenti. Quindi la piccola e media impresa è sempre molto richiesta all'estero? Assolutamente. Abbiamo una forte presenza delle imprese sui mercati esteri e lo ricordiamo direttamente con proprie esportazioni ma anche con esportazioni che vengono fatte dal committente che regolarmente viene fornito dalla micro e piccola impresa la quale magari direttamente non esporta un solo euro ma potrebbe avere l'80% della sua produzione ad esempio che entra in costruzioni navali come quelle che vengono realizzate su questo territorio e che vengono esportate all'estero. Sea Future è una manifestazione che negli anni è cambiata molto e quest'anno c'è un primato perché viene aperto anche al mondo della piccola e media impresa. Quali sono le suggestioni che vengono fuori a un'associazione di categoria come quella di Confartigianato alla luce di questa esperienza? Beh innanzitutto è un piacere essere qua in un contesto estremamente interessante molto tecnico, molto specialistico. Per noi di Confartigianato è una prima edizione abbiamo una presenza istituzionale ospitiamo alcune nostre aziende associate l'obiettivo è quello di aumentare l'interesse nei confronti di questo mercato e con l'esperienza di quest'anno noi vorremmo per i prossimi anni avviare una col nazionale e quindi prevedere una presenza più importante delle nostre imprese che sicuramente sono già protagoniste di questa filiera una filiera particolare dove sicuramente la micro e la piccola impresa l'artigianato sono protagonisti magari poco visibili ma in realtà sono come dire la sala macchina. Nell'ambito di C-Future si parla di meccanica ma Confartigianato chiaramente segue tantissime altre categorie categorie che ovviamente a causa della pandemia hanno pagato un carissimo prezzo a distanza di tre anni qual è l'istantanea che abbiamo della piccola e media impresa? L'istantanea è sicuramente positiva e poi lo vedremo anche dai dati del nostro ufficio studi e del collega Enrico Quintavalle diciamo che la pandemia è stata un po' come la crisi del 2008 ha rilanciato e il rilancio è stato forte un po' in tutti i settori l'edilizia è stata trainata dai bonus oggi nonostante le restrizioni ha sempre un trend positivo non dimentichiamo anche il settore del legno arredo che per certi versi serve anche questa filiera che è un settore assolutamente in salute in particolar modo il settore dell'arredo e in particolare il settore dell'arredo specialistico ad esempio l'arredo per imbarcazione è un settore trainante all'interno di questo macro settore diciamo che l'artigianato ha la capacità di essere molto resiliente la presenza forte sul territorio anche nello spirito di servizio al territorio è l'elemento vincente quindi non vediamo elementi di criticità in questo momento speriamo che i mercati si assestino dopo questi tre anni disastrosi e credo che l'artigianato possa essere protagonista dei prossimi anni in maniera assolutamente positiva Superfici è associata a Confartigianato La Spezia e partecipa assieme all'associazione di categoria per la prima volta una vetrina particolare come quella di C-Future che quest'anno ha aperto anche la piccola e media impresa di che cosa si occupa la vostra azienda? siamo stati pionieri nel inserire all'interno del settore nautico e navale la stampa 3D normalmente vista come una tecnologia per realizzare gadget o comunque oggetti diciamo quasi giocosi mentre ha un potenziale enorme nel settore navale e nautico grazie a dei numeri non eccessivamente elevati come sto parlando di numeri di serie elevati quindi con un alto grado di customizzazione dove questa tecnologia risponde perfettamente siamo qui con Confartigianato e anche con Sinergo che è un'altra azienda con cui collaboriamo perché abbiamo ampliato anche un po' i nostri servizi in particolare siamo qui con uno scanner 3D quindi stiamo facendo il rilievo di una girante che viene inizialmente rilevata con questo strumento poi ricostruita, ridisegnata e alla fine attraverso la stampa 3D è ricostruito una sorta di simulacro che poi servirà per realizzare lo stampo per la fusione di una nuova girante quindi come pezzo di ricambio e quindi come ricostruzione di un oggetto di cui magari non si ha più il disegno Nell'ambito di Sea Future è stato presentato anche uno studio di Confartigianato dove sostanzialmente si è parlato molto della micro e piccola e media impresa in rapporto alla meccanica e anche ai mercati esteri quanta richiesta c'è del vostro lavoro all'estero? Allora diciamo che già sul settore nazionale l'Italia è sicuramente un punto di riferimento per quello che è la nautica e il navale sicuramente dall'estero arrivano tante richieste sono aumentate sicuramente forse proprio perché essendo addirittura leader mondiali del settore nautico in alcune misure quell'italiano probabilmente richiama poi dall'estero investitori o comunque clienti che vengono a investire o a richiedere servizi che le piccole e anche medie imprese riescono a sopperire a queste richieste e anzi riescono poi ad ampliarsi di nuovo verso nuovi ambiti o comunque ampliare la loro offerta Voi lavorate di più con l'Italia o con l'estero? Noi lavoriamo sicuramente più con l'Italia in particolare più sul nautico che sul navale però sicuramente abbiamo una buona percentuale sull'estero o in alcuni casi sono aziende italiane che vendono poi all'estero il prodotto finale di conseguenza noi sì lavoriamo eventualmente in Italia per l'Italia ma poi come utilizzatore finale siamo su un mercato internazionale quindi sull'estero sicuramente a presto a presto a presto a presto Autore dei sorrisi